Granarolo con fermenti del kefir. Che cos'è il kefir? Molti in Europa occidentale non lo sanno, ma da buon est europeo, molto popolare. Il kefir è un latte praticamente fatto fermentare con dei fermenti molto specifici. Anche in Turchia, in questi posti, si usa questo kefir. Comunque sono dei fermenti lattici abbastanza aciduli, almeno io così me le ricordo. Andiamo a spacchettare come sempre. Oh, comunque la granarolo ha tantissime variazioni di stracchino. Spacchettiamo e proviamo. Classico impacchettamento granarolo. Alla scadenza di questo stracchino mancano quattro giorni. Non sembra male il primo impatto. Procediamo or dunque con i soliti parametri a valutare questa bontà. Cremosissimo. Cinque. Subito. Per quanto riguarda il gusto, è particolare. Perché è acidulo, ma è acidulo in una maniera diversa. Non so se questa autosuggestione effetto placebo, che penso che ci sono i fermenti del kefir o è davvero così. Non è perfetto. Diciamo un 3. Per la stabilità diamo un 3 di voto, ecco. È molto buono il sapore però. Veramente buonissimo. Dolce, bello deciso nella sua dolcezza. Il sapore è un 5. Per adesso il granato con i fermenti del kefir ha voti altissime. buonissimo. Lo sto divorando. Granarolo con i fermenti del kefir, nonostante sembra una delle tante cose che ci si può inventare per vendere più stracchino, funziona. È veramente buono. Ve lo consiglio. Buonissimo.